Le televisioni regionali più importanti del nord Italia iniziano un cammino comune ed è un nuovo grande passo per il nostro network Media Nord-Est con un'acquisizione storica del 21,71% delle quote azionarie di Mediapason, la società editrice delle emittenti del nord-ovest. Sempre più grandi con una mossa strategica nel panorama dell'emittenza locale italiana, Media Nord-Est allarga i suoi confini e consolida il proprio radicamento nei territori sulla spinta di una riconosciuta qualità della propria informazione locale. Oggi dunque alle cinque emittenti del nostro gruppo, Antena 3, Rete Veneta, Tele Nord-Est, Tele 4 e TV 12, si affianca l'offerta integrata nell'intero nord Italia. Ci siamo da Torino a Trieste con la partecipazione ora nelle storiche TV leader a nord-ovest come Tele Lombardia e Antena 3, oltre a Top Calcio, Milan Now e Videogruppo. Un totale di quasi 2 milioni e 300 mila contatti giornalieri certificati Auditel, un'operazione condotta in piena sintonia tra le due aziende, coscienti del fatto di tracciare una via mai percorsa nel panorama televisivo. Il lavoro quotidiano di Media Nord-Est con 107 dipendenti, di cui 43 giornalisti, si affianca dunque a quello dello staff di Mediapason, 121 dipendenti, di cui 42 giornalisti. Per un unico panorama di informazione dai territori che consolida la propria leadership assoluta anche negli approfondimenti sportivi di rilievo nazionale. Mentre cresce la competizione e l'offerta televisiva, anche con player mondiali, noi aumentiamo ascolti e gradimento, diventando sempre più grandi, sempre al fianco di chi ci sceglie, ogni giorno.